Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per mercoledì 2 novembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni meridionali e del medio e basso Adriatico avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato, mentre sulle regioni dell'Alto Tirreno e del Nord Italia, in particolar modo in Toscana, avremo tempo più variabile con possibilità di deboli piogge. La ventilazione proverrà dai quadranti occidentali e in particolar modo risulterà da Scirocco sulla Adriatico e sullo Ionio, mentre proverrà dall'Ibeccio sui restanti mari. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato in particolar modo lungo la fascia costiera, mentre nelle zone interne, in particolar modo l'Aquilano, avremo cieli prevalentemente nuvolosi. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio, tuttavia assisteremo ad un aumento della nuvolosità, in particolar modo sul lato occidentale della nostra regione, dove i cieli potranno risultare molto nuvolosi o coperti. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie